Signora, devo dire che per me è un piacere, un piacere sia una nuova e perché in effetti in questo caso presento un lavoro che non è solo io ma tante altre persone, prima da tutto l'amministrazione comunale di Positano che insieme è per ora, sta perorando questa causa con la soppostezza di Salerno da oltre 15 anni. Per cui con i risultati che abbiamo potuto comunque vedere tutti nello scopo della riapertura del museo che è stata inaugurata con uno scopo, spero, positivo da parte dell'Italia. Adesso questo intero invito nel convegno di quest'anno della professoressa Gattolini testimonia ancora una volta l'interesse che sicuramente non sarà una replica del precedente ma noi siamo qua, la mettiamo sotto la lente di gradimenti perché aspettiamo quali sono i possibili ampliamenti sia dello scavo che della professoressa. Io penso che l'amministrazione già l'ha manifestata, questa nuova area archeologica che dovrebbe essere tutta la regia Rappategna praticamente che è stata già indagata in effetti quando è trascinata dagli recenti scavi ha manifestato la licenza praticamente di quello che potrà essere messo la luce. Ci vediamo di un paio, il nostro augurio. Grazie. Grazie. Grazie.